Bentornati su MyFootballJersey. La maglia che vedete è la prima del Perù per la stagione in corso 2024-2025, quella che verrà utilizzata in Coppa America. Questa è in versione FUN. Questa è la prima del Perù per la stagione. La maglia non è niente male, mi ricorda tanto, per via di questa banda, la maglia del River Plate. Bella la rifiuturina in oro, ottima qualità, ottimi i tempi di spedizione. Il costo molto basso, l'avete visto, tra l'altro vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Lasciatemi nei commenti la vostra impressione, quale altra maglia vorreste vedere in futuro. Ricordatevi di mettere un grande like ed iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie!